Al tuo ordine porteremo il Leviatano nello spazio del dominio e inizieremo la ricerca della nave Terran Iperion. Desideri il loro aiuto per cercare il Terran Jim Raynor? Valerian, rileviamo una sorta di segnale. Allarme. Rilevata forma d'onda psionica. Scala inclassificabile. Kerrigan. Che ti è successo? Come? Non c'è tempo. Ascoltate attentamente. Jim è vivo, ma non riesco a trovarlo. Però voi potete. Violate la rete del dominio e scoprite dove lo tengono rinchiuso. Possiamo fidarci di lei? Valerian, se c'è una possibilità che Jim sia vivo, andrò a cercarlo. Violare la rete del dominio non sarà cosa semplice. Solo un uomo può violare quella rete. Orlan. Ed è tenuto prigioniero da... Mirahan. Il capo mercenario? Non era una tua amica? Non esattamente. È complicato. Guarda, lasciamo perdere. Trovalo, Matt. Glielo dobbiamo. Per violare la rete riservata del dominio ci servirà il migliore esperto di decodifica. Il colonnello Orlan. Sfortunatamente, è tenuto prigioniero da Mirahan, uno dei più crudeli e folli capi mercenari in circolazione. Mirahan, qui è il principe Valerian. Mi ricevi? Ma certo, principessa. So che lavori con Matthew. Passamelo, per favore. Vada come parli, mercenaria. Ciao, Mirahan. Matthew! Non scrivi mai, non chiami mai. Sembra quasi che non ti importi. Sono qui per chiedere il tuo aiuto. Hai il colonnello Orlan e ci serve. È l'unica persona in grado di violare la rete di codifica avanzata del dominio. Beh, mi piacerebbe aiutarvi. Ma mi occorre il permesso di James Raynor. Jim non è qui in questo momento. Oh, peccato. In tal caso temo di non potervi dare il colonnello. Ascolta, Mirahan. Orlan ci serve per salvare Jim. Consegnacelo e basta. La reputazione è fondamentale per un mercenario tesoro. Consegnerò il prigioniero soltanto al cliente. Neanche un uomo dalla diabolica bellezza e dallo sguardo intenso come te. Mi spiace. Se ostacolassimo le sue operazioni in questo campo di asteroidi, attireremmo la sua attenzione. Dovremmo colpire la sua stazione spaziale primaria. Non resterà a guardare. Dobbiamo stabilire una base. C'è una delle flotte di mira nei paraggi. Possiamo farla fuori e impiantare una nostra stazione. Comunicazioni online. Coordinate agganciate. Tenete gli occhi aperti. I sensori rilevano la posizione della stazione di mira. Possiamo anche iniziare. Ehi ragazzi, quegli asteroidi sono troppo fitti per attraversarli. Dovrete... Bene! Questi salti corti sono ottimi anche per evitare i pericoli. Velocità di navigazione. Vi voglio aggressivi randaggi. Procediamo. Coordinate agganciate. Procediamo. Niente di personale. Rotta tracciata. Rapido e indolore. Attivate i motori. Mira ha una squadriglia di caccia nei dintorni. Troppi per farli fuori in un colpo solo con le nostre armi primarie. Ma possiamo lanciare i nostri caccia, così lo scontro sarà equilibrato. Tenete gli occhi aperti. Presenta l'inica. Confermo. Mostriamogli cosa può fare questa. Garo, c'è conti a confine. Velocità di navigazione. Conferma visiva del bersaglio. Cedo al puntamento. Conferma visiva del bersaglio. Si stanno riorganizzando! Si stanno riorganizzando! Richiedo supporto a immediato! Test radio, passo. Ricevo una trasmissione. Quelle torri di difesa possiedono armi a lunga gittata che infliggono molti danni. Fortunatamente il nostro cannone Yamato ne inflige di più. Mettetelo alla prova su quella torre. Coordinate agganciate. Qui in comando dell'Iperion. Tenete gli occhi aperti. Rotta tracciata. Rapido e indolore. È un droide riparatore. Acquisendolo potrò riparare istantaneamente l'Iperion e rimpiazzare i cacciaperduti. Città di navigazione. Apriamo le danze. Procediamo. Coordinate agganciate. Procedo al puntamento. Rotta tracciata. Velocità di navigazione. Presenta il migraio online. Conferma visiva del versaglio. Richiedo supporto immediato. Attivate i motori. Mi hanno capito un'altra parte. Siamo riorganizzato. Siamo riorganizzato. Test radio, passo. Tenete gli occhi aperti. Bel lavoro. Possiamo recuperare questa base e usarla per costruire dei cacciautomatizzati. Ogni volta che completerà una flotta la invierò contro gli uomini di mira. Non possiamo ragionare con lei. Qui non funziona così, Valerian. Ehi, mili automatizzate. Quelle piccoline sono davvero letali. Si lanciano verso il bersaglio in linea retta, perciò si possono schivare. O si può usare il salto corto per evitarle. Attendo conferma. Rapido e indolore. Tenete gli occhi aperti. Giacimenti minerari. Possiamo raccogliere altre risorse. Portatemi quei minerali e io potrò potenziare l'Iperion. Sarà ancora più tosta. I sensori mostrano fitti giacimenti di minerali nell'area, ma sono protetti da mine automatizzate. Rottatracciata. Rottatracciata. Confermo visiva del bersaglio. Le nostre forze sono offerte a te. Con il puntamento. Confermo. Attivate i motori. Procediamo. Tenete gli occhi aperti. Coordinate agganciate. Rapido e indolore. Coordinate agganciate. Rottatracciata. Confermo. Eccellente. I sensori indicano che abbiamo recuperato tutti i minerali in zona. Velocità di navigazione. Rottatracciata. I sensori rilevano attività che il Moriane nell'area. Hanno delle belle difese. E hanno una nave di classe corazzata. Potremo sempre aggirarli. Potrebbero avere risorse o equipaggiamenti preziosi. Ricevo una trasmissione. Procediamo. Comunicazioni online. Qui comando dell'Iperion. Qui, Horner. Confermo. Incazione. Incazione. Rotatracciata. Coordinate agganciate. Attendo. Confermo. Comunicazioni online. Ricchiedo supporto immediato. Versaglio appresito. Mi hanno colpito alle spalle. Coordinate agganciate. Incazione. 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 Ricchiedo supporto immediato. Confermo. Rapido e indolore. Rotta tracciata. Velocità di navigazione. Versaglio appresito. Tenete gli occhi aperti. Procediamo. Qui, Horner. I sistemi sono andati. Mi metto al lavoro. Qui comando dell'Iperion. Confermo. Confermo. Attendo confermo. Incazione. 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 Qui comando dell'Iperion. Ricevo una trasmissione. Confermo visiva del bersaglio. D'accordo. Ora comincio ad arrabbiarmi. Comunicazioni online. Stiamo per essere annientati. Senza nemica. Senza radio. Passo. Però. Avevano un generatore di campo elettrico. Questo gioiello sovraccarica le navi nemiche e disattivandole per un po'. Vediamo di installarlo, ingegnere capo. È già attivo, biondino. Io non perdo tempo. Biondino. Rapido e indolore. Velocità di navigazione. Attivate i motori. Oh, Matthew. Oddio, quando litighiamo. Voi due avete una qualche strana storia in sospeso. Non darle corda. Comunicazioni online. Condinate a caccia. Soprattutto. Squadrina a caccia regolata. Conletto conferma. Per salva a presidio. Mi hanno colpito. Non le spole. Apriamo le danze. Confermo. Procediamo. We order. Rapido e indolore. Procedo appuntamento. Tenete gli occhi aperti. Ricevo una trasmissione. Squadrille partite, Iperion. Attendo conferma. Mostriamogli cosa può fare questa nave. Vi voglio aggressivi. Quello spazio porto sta creando altre navi da mandarci contro. Dovremmo toglierlo di mezzo in fretta. Attivate i motori. Qui comando dell'Iperio. Le nostre forze sono sotto attacco. Incazzo il bersaglio. Confermo. Richiedo supporto immediato. Confermo che si vanno in giro. Se stanno riorganizzando. Velocità di navigazione. Procedo appuntamento. Incazzo il bersaglio. Ottimo lavoro. Continuiamo ad avanzare. Matthew, sei stato davvero scortese. Le basi automatizzate sono piuttosto care. Confermo. Potenziamento installato. Parola mia, ora è un'altra nave. Portatemi altri minerali e lo rifarò. Tenete gli occhi aperti. Attivate i motori. Velocità di navigazione. Procediamo. Confermo. Rotta tracciata. Rapido e inoltre. Iniziamo il pattugliamento. We order. Le nostre forze sono sotto attacco. Incazzo il bersaglio. Procediamo. Il soldo è preso. Stanno riorganizzando. Velocità di navigazione. Attivate i motori. Rotta tracciata. Confermo. Coordinate agganciate. Rapido e inoltre. Confermo. Credo che quelli fossero gli ultimi minerali della zona. Tenete gli occhi aperti. Procediamo. Procediamo. Test radio, passo. Velocità di navigazione. Attivate i motori. Attivate i motori. Concentrate le batterie a colpire. Concentrate le batterie. Procediamo. Ehi, l'Iperion è ancora più forte. Potete ringraziarvi dopo. Rapido e in dolore. Confermo. Incazzo il bersaglio. Confermo. Presenza nemica. Incazzo il bersaglio. Incazzo il bersaglio. Attendo. Confermo. Versaglio a presito. Mi hanno colpito. All'esporto immediato. Rapido e in dolore. Tenete gli occhi aperti. Continuate agganciate. Velocità di navigazione. Pronta tracciata. Incazzo il bersaglio. Bersaglio a presito. Vediamo. Le nostre forze sono effettate. Richiedo supporto immediato. Comando dell'Iperion. Presenza nemica. Confermo. Rossa tracciata. Attendo conferma. Ricevo una trasmissione. Tenete gli occhi aperti. Procediamo. Velocità di navigazione. Attraversa. Attraversa. Attraversazioni online. Richiedo supporto immediato. Iniziamo il fatto. Confermo visiva del bersaglio. Rossa tracciata. Procedo appuntamento. Ricevo una trasmissione. Rapido e in dolore. Le nostre forze sono sotto attacco. Presenza nemica. Salve acquisito. We order. Stiamo vincendo. Continua ad avanzare. Le nostre forze sono sotto attacco. Squadrine pari. Confermo visiva del bersaglio. Ingancio il bersaglio. Le nostre forze sono sotto attacco. Attivate i motori. Procediamo. Rapido e in dolore. Rotta tracciata. Test radio. Passo. Versaglio appellito. Confermo visiva del bersaglio. Velocità di navigazione. Procediamo. Tenete gli occhi aperti. Rotta tracciata. Rapido e in dolore. Attivate i motori. Rotta tracciata. Tenete gli occhi. Matthew. Hai rubato tutti i miei minerali. Attendo conferma. Procediamo. Qui in comando dell'Iperio. Procediamo. Senti e mesi agganciate. Aggancio il bersaglio. Velocità di navigazione. Caccia pronti a colpire. Attivati i motori. Conferma visiva del bersaglio. Procedo al puntamento. Rossa tracciata. Attivazione online. Testa radio basso. Rapido e in dolore. Combinate agganciate. Bene. Potenziamento terminato. Non credo di poterla migliorare ulteriormente. Matthew. Non iluderti che ci andrò leggera con te. E quando mai ci sei andata leggera con me? Pensavo ti piacesse un po' di rudezza. Chiude. Qui oltre. Procediamo. Ricevo una trasmissione. Nemici confermati e agganciati. Presenza nemica. Versaglio. Raccetto al puntamento. Comunicazioni online. Nota tracciata. Confermo. Tenete gli occhi a peso. Versaglio a presito. Velocità di navigazione. Incaggio a soltare. Le nostre forze sono sotto attacco. Iniziamo il fatturamento. Salve a presito. Ricevo una trasmissione. Versaglio a presito. Qui, comando dell'Iberion. Cominate agganciati. Arrenditi, Matthew. Sarò carina con te, promesso. È questo che mi fa paura. Non mettere alla prova la mia pazienza, Matthew. Te la sei cercata, Mira. Io volevo essere civile. Comando dell'Iberion. Procediamo. Caccia pronti a colpire. Versaglio a presito. Le nostre forze sono sotto attacco. Richiesta supporta. Attivate i motori. Procediamo a presito. We order. Ricevo una trasmissione. Perio, procedo. Comunicazioni online. Tenete gli occhi aperti. Qui, comando dell'Iberion. Procediamo. Squadriglie partite, Iberion. Perio, procedo. Sto riorganizzando. Sto riorganizzando. Ricevo una trasmissione. Basta, basta. Hai vinto, Matthew. Hai distrutto la mia base. Hai conquistato il mio cuore. Ancora una volta. È una tipa ben strana. Per favore, possiamo prendere il colonnello Orlan e andarcene? Subito? Sto inviando quel disdicevole tipo con una navetta. Voi siete fuori di testa. Perché dovrei aiutarvi? Potremmo rispedirti da Mirahan. Ditemi cosa vi occorre. Per colpa tua dovrò rifondare i devastatori di Mirahan, Matthew. Ma ci rivedremo. Non troppo presto, spero. E io che pensavo che il dominio fosse immorale.